Consolidati di shipping. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio. Ma anche con stile. Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. Magnifico! Adoro castigare i cattivi con le loro stesse armi. E questa, amici miei? Si chiama giustizia carica. Sei qui. Mi piace. Non ci sono. Ma odd. E' di questo. Non ti voglio? No. Non ciò. Grazie a tutti 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 Ah, la fattura di un'auto-officina Paylor's rights Costosetta come messa a punto Cos'altro c'è di interessante? Hanno basi sparse in tutta la città E' peggio di quanto pensassi I demoni hanno un vero esercito Come se una frusta letale non fosse abbastanza Non so cosa mi aspettavo di trovare Ma di sicuro non questo Ehi, amici Credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Oswald Hai trovato? No Ma forse ho trovato una testa È un'officina, si chiama Paylor Science Mi sono a camminare Controli mi faccio sapere Ehi, amici Ehi, amici Ehi, amici Ehi, amici Ehi, amici Ricevuto Silver Bird, stiamo scendendo Un'altra in vista Via di sicura Questa è una novità No, 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 questo è mio D'accordo Vorrà giustizio, questo figlio di... Ehi, non potete farlo nella mia città Codice SM1 Ehi, ehi, prima di iniziare, mi spiegate che diavolo siete Codice SM1, codice SM1, attendiamo ordini Ricevuto, obiettivo in vista, attenta il Silver Bird Bella entrata, ti do 8 su 10 Ci sono Champions Come la lutta, ibranchofti... Ascríbete il directamente Si, insiste! Perverte il meno